è molto piuttosto è grande, non ti disce l'acqua non ha paura è crescita di solito la parte più bella è anche più calda si si adesso è 15 ma c'è un po' di so tutto ciò è un po' di ci sono un po' di un po' di un po' di di un po' di un po' di un po' di per i miei bottoni